Come valuta? Come valuta la Chiesa il contatto con i piani superiori di esistenza? Commento. La Chiesa non nega il contatto, ma proibisce l'evocazione dei trapassati. Esodo 22,17 Deuteronomio 18,11 Primo libro delle cronache 10,13 Isaia 8,19 Nella letteratura cristiana dei primi secoli vigono Tertulliano Apologeticus Adversus ogentes pro cristianis, capitolo ventitresimo Minuccio Felice, Octavius, capitolo ventesimo Lattanzio Divinarum Instituzionum Ad Pentadium Fratrem, capitolo ventottesimo Agostino di Pona nel commento all'episodio della Negromante di Endor De diversis questionibus ad simplicianum, libro secondo e Gregorio di Tour nella sua Historia Francorum, libro nono, capitolo sesto Dai primi secoli ad oggi molte medianità importanti hanno spiegato la funzione della vita la funzione delle vite e quella delle religioni grazie a tutti